Chi ha un tetto sulla testa, di solito, può affidarsi alle pagine gialle o a internet. Ma a Napoli vivono, nell'indifferenza delle istituzioni, 1500 barboni, persone senza fissa dimora, impossibilitate a reperire qualsiasi informazione su luoghi dove mangiare gratuitamente, lavarsi o per ricorrere alle cure sanitarie. Una lacuna che la comunità di Sant'Egidio ha voluto colmare distribuendo ai poveri che vivono in città la guida Napoli dove, presentata questa mattina nella sede della Fondazione Premio Napoli. Rispetto all'edizione 2010, quella che viene definita la guida Michelin dei poveri, per il 2011 comprende 20 pagine di servizi utili in più. I dettagli sono stati forniti da Benedetta Ferone, responsabile del servizio senza fissa dimora della comunità di Sant'Egidio. Lo spazio dato all'orientamento, al lavoro, che è una delle prime domande che ci viene posta, e lo spazio ha anche i bonus, gli assegni per tutti quelli che pur avendo casa vengono a chiederci aiuto perché non riescono ad arrivare a fine mese, sono i cosiddetti nuovi poveri. Ma soprattutto tutti questi servizi insieme sono un aiuto per chi è in difficoltà, ma anche un aiuto ad aiutare. Chi vuole aiutare spesso non sa come farlo, gli viene chiesto ma dove posso mangiare, dove posso dormire. Noi abbiamo iniziato a raccogliere questi indirizzi, come vedevamo che i nostri amici più poveri si disegnavano su dei pezzetti di carta per farne una guida che viene edita a Napoli da cinque anni. Oltre a una dettagliata mappa cittadina, la guida comprende l'elenco delle strutture che in Campania operano a favore delle persone svantaggiate fornendo loro pasti, servizi igienici o letti dove trascorrere la notte. Servono più posti letto, più posti di accoglienza, un'accoglienza immediata ma anche diversificata, anche avendo per esempio problemi ortopedici o ci sono appunto persone che, donne, donne con famiglia, con figli che restano per litigi, per strada, ci sono immigrati appena arrivati o badanti che perdono il lavoro a causa del lutto, del lutto dell'anziano che seguivano. Sono tutte situazioni che devono avere una risposta immediata per non scivolare in una condizione di maggiore difficoltà.